L'installazione delle antenne 5G nel territorio di Fano continua a generare proteste e dubbi sui possibili danni alla salute. Il Comune di Fano sta proponendo siti alternativi alle compagnie telefoniche, ma secondo lei non è sufficiente. Rossi, che cosa dovrebbe fare l'amministrazione comunale? È vero che l'amministrazione comunale non è l'unico soggetto decisore per le antenne. Quindi ha dei poteri di intervento limitati, questi bisogna riconoscerlo, però dei poteri li ha. Li ha sia per la localizzazione del sito, ma soprattutto, secondo me, e questo è un aspetto che finora l'amministrazione comunale non ha per nulla preso in considerazione, il sindaco è il responsabile della salute dei propri cittadini e sul 5G ci sono preoccupazioni che riguardano appunto la salute. Un'associazione nazionale ha posto un quesito all'Istituto Superiore di Sanità e anche all'INAIL chiedendo ci sono studi sui rischi sulla salute da parte del 5G, specialmente con l'inalzamento dei valori che è stato fatto per legge recentemente sulla salute psicofisica delle persone. Sia l'INAIL che soprattutto l'Istituto Superiore di Sanità hanno risposto che questi studi non esistono e comunque loro non li hanno. Allora il sindaco può fare una cosa molto concreta come responsabile della salute dei propri cittadini. Convocare lui una commissione di partnership pubblico-private, esperti sia pubblici che privati, che debbono esaminare quali sono le ricadute sulla salute dei cittadini. Sia da questo tavolo verrà fuori che esistono questi rischi, il sindaco potrà emettere un'ordinanza per vietare o limitare l'installazione delle antenne con quel livello di emissioni. Questa è l'unica cosa che può fare e deve fare l'amministrazione comunale. C'è una giusta preoccupazione da parte di tutti i cittadini. La politica, se non vuole limitarsi a fare l'amministratore di condominio, deve prendere coraggio e fare cose innovative come questa che noi proponiamo.